Sarà stata la serata fresca, il turno infrasettimanale notturne, il terreno di gioco a pochi passi dalle gradinate con 6.000 spettatori presenti. Certo è che il Bari, sul campo neutro di Andrea San Nicola, indisponibile per la rizzollatura, è sceso in campo al Degli Olivi contro la Provercelli con un piglio energico ed efficace. Nella prima parte della gara non ci sono grandi emozioni, ma tanto dinamismo e buone trame. In una di queste, all'ottavo, sale in cattedra tutta la tecnica di un talento tutto barese, Nicola Bellomo, che infila con una grande conclusione da discreta distanza Valentini. Il portiere piemontese non può far nulla sulla preziosità balistica del prodotto della cantera biancorossa. E alla fine del primo tempo il Bari si ritrova, malgrado il fardello delle penalizzazioni, al quinto posto con 7 punti in piena zona play-off. Gli avversari hanno tiribocchi come unico e reale terminale pericoloso, ma il tir, beccato spesso dal pubblico per timore delle sue giocate e per il suo passato leccese, è sovente neutralizzato dall'insolita difesa 4 schierata da Torrente, che mette in mezzo Cepitelli e Dosantos, oltre a piazzare sulle fasce Polente e Sabelli, arretrato dal centrocampo. In mezzo giostrano bene Bellomo, appunto, affiancato da Runizzi e Sciaudone. In avanti il terzetto e con Caputo in mezzo, Iunco a sinistra e ancora una volta Galano, preferito da Albadoro. La formazione è in fotocopia quella di Crotone. La magnifica serata di Bellomo diventa una notte andriese da ricordare con un calcio di punizione alla Del Piero, al ventunesimo del secondo tempo. E il Bari passa sul 2-0 nel tripudio dello stadio andriese, colorato di bianco-rosso e impazzito di gioia. Canti, trenini, balli in tribuna, la torcida brasilera si è trasferita a 60 chilometri da Bari. Tiribocchi e soci sembrano anichiliti. Ma un Bari ancora assordito dalla gioia deve fare i conti al ventottesimo della ripresa con una puntura accuminata di Appelt che, da distanza ravvicinata, mette alle spalle di Lamanna uscito un po' a farfalle. E siamo sul 2-1, peccato. E pensare che prima di allora la Provercelli non era pervenuta sul taccuino della serata. Poi ci pensa Borriello Junior, l'arbitro della gara, a rendere vivace la partita concedendo addirittura sei minuti di recupero, oltre a rendersi protagonista di alcune decisioni contestatissime da parte di entrambe le squadre. Al minuto 48 al Degli Olivi c'è la standing ovation per Nicola Bellomo, autentico protagonista della gara. Ma non è finita, in casa bianco-rossa nel finale c'è spazio per il trilling. Inaspettato arriva un gran tiro dalla distanza siderale dalla squadra piemontese con Lamanna che riesce a salvare, arretrando affannosamente, riscattandosi così dalla papera del gol piemontese. Alla fine il Bari può lanciarsi in un urlo liberatorio e si gode il sesto risultato utile consecutivo e un bel sesto posto in classifica, oltre a un secondo posto virtuale se non si contasse la penalizzazione e il record di imbattibilità che finora condivide con Sassuolo e Verona.